questo è il luogo in cui registro pam computer pam joystick pam telefono e telecamera pam televisore tutto questo serve per fare quel che faccio io questo lo chiamo il momento del gioco quindi il momento in cui sto registrando ed è naturalmente la parte più divertente perché non si lavora si gioca ed è la parte più importante perché sarà quella che guardano quelli che mi seguono e questa è invece la parte più noiosa perché è quella in cui si lavora di più il momento del montaggio e questo è il momento degli effetti in cui guardo se ci sta bene a parte rallenti o la parte velocizzata Poi tutte le volte c'è il momento dell'errore c'è la propria ciliegina sulla torta alla fine l'errore non l'hai salvato devi rifare tutto da capo vai così poi qua c'è l'ultimo passo quello di caricare il video su youtube spero a che video vi sia piaciuto mettete un commento mi mettete un mi piace perché questa è giunto al termine questo video bellissimo video ammettetelo ne farò altri backstage così anche i più belli iscrivetevi soprattutto chi se ne frega le descrizioni voglio mettete un mi piace condividete condividete ragazzi soprattutto condividete che la continuo a piangere ok condividete e boh vi lascio fare la doccia perché lo so che tu in questo momento che stai guardando pezzi un casino quindi vai sotto la doccia corri iscrivetevi